Quella frase che aleggia dalla conferenza stampa Consigliatemi pure, tanto poi faccio il cazzo che mi pare Queste sono parole dette proprio da De La Redis Se quella frase non viene cancellata Prendere il DS è inutile Signori, bentornati o benvenuti sul canale Io sono Dario Detto Eldarion E oggi, in questo martedì, in attesa di Napoli-Torino Andiamo un po' a parlare di notizie in generale Abbiamo oggi due notizie in particolare che voglio analizzare insieme a voi Quindi, prima di cominciare, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale Ragazzi, mi raccomando, siamo vicinissimi ai 3200 Ne mancano tipo 7, più o meno In questo momento ne mancano 7 Quindi, iscrivetevi perché è totalmente gratis E supportatemi facendo crescere questo canale E poi, attivate la campanella perché è totalmente gratuito Non vi perderete nuovi contenuti Detto questo, cominciamo subito, ragazzi E io direi di partire con quella sfuriata di De La Redis Che c'è stata in Napoli-Juve Quindi, andiamo a cambiare scena Andiamo a leggere un po' questo articolo Che ho trovato sul Calcio Napoli24 Che ci spiega un po' tutto il Ci ricostruisce un po' tutta la scena De La Redis contro Dazon Ecco il vero motivo ADL adesso rischia una multa Andiamo a leggere La sfuriata di De La Redis contro Dazon È andata in onda a reti internazionali Io, purtroppo, in diretta non l'ho vista La frattura sembra ormai insanabile Nonostante Dazon detenga i diritti TV del calcio dell'anno fino al 2029 De La Redis è sembrato seriamente intenzionato A chiudere ogni rapporto con la piattaforma streaming Oggi ne parla anche il Corriere del Mezzogiorno Ricordando come De La Redis In diverse interviste ha più volte ribadito Di non gradire le telecamere degli spoiatoi Perché ritiene che sia un prodotto di scarso interesse Per i telespettatori Quindi il motivo di questa sfuriata di De La Redis Pare che sia la presenza delle telecamere negli spoiatoi Ora, io ho trovato Quest'articolo di Calcio e Finanza Che ci spiega un attimo Diciamo il contratto Le telecamere presenti in quello spazio Cioè le telecamere presenti dentro lo stadio Sono quelle della produzione della Lega Serie A Che le destina poi ad uso dei licenziatari Cioè da Zone o Sky Quindi le telecamere dello stadio sono della Lega La differenza è che per quanto riguarda gli spoiatoi Quindi qua parliamo Quelle sono telecamere dello stadio Per quanto riguarda lo spoiatoio La Lega registra le immagini E le cede ai broadcaster In leggera differita Con questi ultimi che possono farne utilizzo In base alle proprie scelte editoriali Le immagini dall'uscita degli spoiatoi E quindi all'ingresso nel tunnel Vengono invece trasmesse in diretta Quando nel prepartita Quando stanno entrando nel campo Si vedono appunto Che escono dagli spoiatoi Invece quelli degli spoiatoi Ragazzi vengono trasmesse Dalla Lega a Dazon In differita Quindi l'uso delle telecamere Negli spoiatoi È consentito Dal contratto Diciamo Lega a Dazon E quindi Su sta cosa De Laurentiis Diciamo che non può farci niente Perché è da contratto C'è in teoria un altro motivo Che ha Diciamo fatto In cacchiare De Laurentiis Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno De Laurentiis sarebbe infastidito Dalla programmazione delle gare Stabilita da Dazon Di intesa con la Lega Calcio In particolare a De Laurentiis Non è andata giù la pianificazione Della sfida Napoli-Atalanta Fissata Per sabato 30 marzo Quindi il turno di Pasqua A quanto pare Il presidente del Napoli Avrebbe preferito Si fosse giocata l'1 aprile Dal momento che Calzona Sarà impegnato con la Slovacchia Fino al 27 Quindi De Laurentiis voleva Posticipare la gara Perché Calzona Torna dalla Slovacchia Il 27 Ci avrebbe quindi poco tempo Per preparare la partita Una richiesta impossibile Da soddisfare Visto che l'Atalanta Il 3 aprile Deve giocare la Coppa Italia Ecco quindi Anche qui La motivazione di De Laurentiis Diciamo che Sotto un certo punto di vista È legittima Perché tu dici L'allenatore torna il 27 La partita si gioca l'1 Cioè l'innoi il 30 Quindi hai praticamente Due giorni soltanto Per preparare la partita Però dall'altra parte Quando tu prendi Calzona Che è anche CT della Slovacchia Lo sai da subito Che c'è questo problema Del doppio incarico Quindi sotto un certo punto di vista Mi sorprende il fatto Che De Laurentiis Si è rimasto Diciamo spiazzato Da questa cosa Il compromesso potrebbe essere Giocare di domenica 31 Però domenica è Pasqua Quindi non si può giocare E quindi ti devi Ti devi sotto un certo punto di vista Ti devi arrangiare Ma è una cosa Ripeto Che dovevi mettere in preventivo Perché Prendendo un allenatore Che è già CT Dovevi sapere Cioè dovevi già mettere in preventivo Che ci sarebbero stati Questi tipi di problemi Quindi La sfuriata di De Laurentiis Era abbastanza Diciamo Evitabile Però Non finisce qui Tra i veri motivi Della sfuriata Ce n'è un altro Da rilevare Che De Laurentiis È stato anche un forte Sostenitore del partito Contrario Alla reassionazione Di TTV In Serie A Da zone E questo L'abbiamo sentito Tante volte E adesso Può esserci anche Una multa Per aver violato Il regolamento Delle produzioni audiovisive Della Lega Serie A Quindi Morale della favola Ragazzi Alla fine Ci si becca Una bella multa Si è andato a incazzare Su cose Che erano ampiamente Previste Sia dal contratto E sia dal fatto Che comunque L'allenatore L'ho preso Dalla nazionale Quindi Diciamo che alla fine Si è incazzato Sul nulla Passiamo adesso A una notizia Che ci interessa Un po' di più Voi potete leggere Dal titolo Calciomercato.it Nuovo direttore sportivo Napoli ADL punta Tony D'Amico Dell'Atalanta Addirittura A prossime ore decisive Quindi a quanto pare Secondo Calciomercato.it Sarebbe Non dico imminente Ma sta arrivando Il nuovo DS Andiamo a leggere Che questo è interessante Il Napoli lavora Per poter andare a provare Il colpo per il calciomercato Del futuro Perché il nuovo direttore sportivo Può arrivare dall'Atalanta Che in questi anni Ha fatto colpi importanti Si parla di Tony D'Amico Ex Verona Che da due anni È arrivato a Bergamo Per dare continuità All'Atalanta Secondo i colleghi Calciomercato.it Della Rennes Vuole costruire un Napoli Forte per il futuro E ora si punta Sul Tony D'Amico Dell'Atalanta Il contratto con l'attuale direttore sportivo Meluso In scadenza Potrebbe non essere rinnovato Per dare il via Un nuovo ciclo Nessuna bocciatura Da parte di Dell'Aurentis Che ha apprezzato Il lavoro del suo dirigente Mi piacerebbe sapere Qual è stato Questo lavoro Visto che ha fatto tutto Dell'Aurentis Ma vuole vedere qualcosa di diverso Ora ci sarebbe Tony D'Amico Direttore sportivo Dell'Atalanta Nei due anni All'Atalanta Ha confermato Quanto di buono Aveva già fatto vedere Al Verona Vediamo un po' Ecco Tra gli altri profili seguiti Ci sono Tare Della Lazio Accardi Dell'Empoli Questo è un nome Che già l'estate scorsa Fecero Giovanni Sartori Che mi piacerebbe tantissimo A me E poi gli svincolati Massara Petrachi E Marchetti Petrachi L'altro giorno Se ricordate Aveva anche parlato E aveva fatto capire Che sarebbe venuto Volentieri a Napoli A patto però Che Dell'Aurentis Lo facesse lavorare Ecco Questo è un po' Quello che ha detto Vabbè La biografia Diciamo Possiamo anche Evitarla Vediamo giusto Qualche nome Che è stato preso Da questo D'Amico Al Verona Amrabat Comprato a 3,6 E poi venduto A 19,5 La Fiorentina Rachmani Quindi D'Amico ha comprato Rachmani Dalla Dinamo Zagab Al Verona 2,1 milioni Poi venduto A 14 E poi Cumulla Preso dalle giovanili E venduto A 26,5 milioni Per quanto riguarda Invece Gli anni All'Atalanta Questi sono Gli acquisti Fatti Da D'Amico All'Atalanta Ederson 21 milioni Della Sanitana Oilund Questo ragazzi Oilund Per me Sarebbe Era il perfetto Erede di Ozyman Lo amavo Oilund 20 milioni Dallo Sturmgratz Luckman 9 milioni Dall'Ipsia E il Bilal Thure 29 milioni Dall'Almeria Scamacca 25 Dal Westen Bacher De Ketelare E Ian Invece Le cessioni Oilund Venduto A 74 Demirale Venduto A 17 Maele A 12 Boga A 17 Froiler A 9 E Balinoski A 10 Quindi diciamo Che come DS Diciamo Che dal punto Di vista Delle cessioni Ci sa fare Perché Oilund Lo prende A 20 E lo vende A 74 Quindi Triplicato Boga Maele Comunque Giocatori Che Erano Un po' Degli esuberi Difficili Da piazzare Questo DS Da quello Che abbiamo visto E' abbastanza Competente La cosa Però Importante Ragazzi E' sempre La stessa Qui Mi tocca Ripete Devo essere Ripetitivo Sotto questo Aspetto Tu puoi Prendere Chiunque Vuoi Come DS L'importante E' che Lo lasci Fare Perché Quella frase Che Aleggia Della conferenza Stampa Consigliatemi Pure Tanto Poi Faccio Il cazzo Che Mi pare Queste Sono Parole Dette Da De Dore Edis Se Quella Frase Non Viene Cancellata Prendere Il DS È Inutile Cioè A sto Punto Ti Tieni L'uso Se Tu Invece Prendi Il DS Se Lavora Insieme All'allenatore E Tu Li Lasci Lavorare In Santa Pace Senza Doverti Mischiare In Cose Che Non Ti Competono Così Si Può Ragionare Perché Il DS Deve Arrivare Devi Dagli Certe Responsabilità Devi Affidare Le Perché Se Tu Prendi Il DS E Continua A Fare Di Testa Tua Non Serve A Niente Perché Comunque Quest'anno Rega De Laurentiis Ha Dimostrato Che Non Questo Sistema Questo Modello Dell'uomo Solo Al Comando Non Funziona Non Ci Voleva Una Laurea Per Capirlo Perché De Laurentiis Si Vanta Di Essere In Da Ventari Del Calcio Ma Lui Non È Un Uomo Di Calcio In Dirigenza Chi È Che È Competente Di Calcio E Tutta Gente Che Viene Dal Cinema E Un DS Come D'amico Comunque Un DS Che È Da Anni Che Si Trova Nel Mondo Del Calcio È Vitale In Una Società Dove Di Calcio Non Ce n'è Proprio Io Spero Che Succeda Questa Cosa Che Deve Scapisca Che Deve Farsi Da Parte Argomento Che Riguarda Il Rinnovo Di Cavara Questo È Un Altro Argomento Fondamentale Andiamo A leggere La Gazzetta Il Prolungamento Contrattuale Di Cavara Con Il Napoli Sarà L'argomento Della Prossima Estate Il Giorgiano Con Risultanza Dopo La Rete Signata Domenica La Juve Ha Praticamente Espresso La Sua Volontà Di Continuare Con La Maia Azzura Penso Che L'abbiate Visto Cavara Quando Ha segnato Contro La Juve Ha Fatto Il Gesto Io Sto Qui Io Onestamente Non darei Tanto Peso A Questo Gesto Perché Ce ne Sono Stati Tantissimi Di Calciatori Che Hanno Detto Io Resto Qui Oppure Hanno Baciato Lo Stem E Poi Se Ne Sono Andati Quindi E Un Gesto Che Io Onestamente Ci Do Poco Peso Anche De Laurenti Sa Che Bisogna Adeguare L'ingaggio Di Cvicia Che Oggi Percepisce Appena Un Milione E Mezzo Cioè Voi Pensate Ragazzi Questo Fenomeno Guadagna Appena Un Milione E Mezzo Allora C'è Bisogna Di Adeguare L'ingaggio Di Portarlo Sui Livelli Standard Per Un Top Player Cvicia E Quasi A Voler Dire Guarda Che Qua Dobbiamo Muoverci Con Rinnovo L'entourage Del Georgiano Si Aspetta Una Proposta Ad Almeno 4 Milioni Di Base E Più Eventuali Bonus Se La Società Lo Riterrà Opportuno Si Discuterà Di Una clausola Rescissa Da Inserire All'interno Del Accordo Per Evitare Tormento Le Allo Sui Men Ora Riguardo La Richiesta Ragazzi Secondo Me È Assolutamente Legittima 4 Milioni Di Base Perché Per Un Solo Motivo Politano Ne guadagna 3,2 Ed è Il giocatore Più Pagato Della Rosa Considerando Già Zelinsky Osimel Fuori Ecco Quindi Se Politano Guarda 3,2 Milioni Cavara Non può Prendere Di Meno Perché Cavara È 100 Volte Meglio Di Politano Ecco Quindi 4 Milioni Mi Sembrano Richiesta Molto Molto Logica Riguardo La Clausola Io Sono Sempre Contrario A Mettere Le Clausole Perché Possono Essere Un'arma A Doppio Taglio Cioè Se Ti Capita Che Il Giocatore Esplode Fa Una Stagione Incredibile E Lì Poi Diciamo Che Non Hai Margini Trattativa E Sei Costretto A Per Una Cifra Che Magari Non Vale Cioè Se Cavara Fa 15 Gole 15 Assist Proprio L'ipotesi Più Incredibile Potresti Magari Darlo Via 150 Per Dire E Invece Tu Con La Clausola Sei Costretto A Cedere A Un Prezzo Più Basso L'altra Faccia Della Medaglia Però Qual è Se Hai Una Stagione Negativa Dove Il Giocatore Ti Fa Male Quella Cifra Difficilmente La Raggiungerai Della Clausola E Quindi Sei Costretto A Venderlo A Prezzo Più Basso Quindi Io Onestamente La Clausola Non la Metterei Mai Perché Poi Hai Anche Diciamo Margine Di Trattativa Perché Se C'è La Clausola E Quella Cifra E Basta Invece Senza Clausola Puoi Trattare E Poi Un Po Anche Avere Il Coltello Della Parte Del Manico Ecco Quindi Io Non La Metterei Comunque Se Queste Sono Le Cifre Io E Non Ti Puoi Permettere Di Perdere Anche Kvara La Gente Ricordiamoci Una Settimana Fa Disse A Maggio La Situazione Sarà Più Chiara Secondo Me Kvara Vuole Anche Aspettare Come Finisce La Stagione C'è Un Conto E Giocare La Champions E Un Conto Non Giocarla Ok Kvara Magari Se Vede Che Il Napoli Arriva In Champions Non Si Fa Problemi Se Però Magari Va In Europa League Va In Conference Vuoi Capire Il Progetto Arriva Il Nuovo DS L'allenatore Quale Sarà Sarà Calzone Sarà Un Altro C'è Il Progetto Del Napoli In Questo Momento E Messo In Standby Ok Perché Tu Devi Innanzitutto Devi Conquistarti Il Quinto Posto E Sperare Che Valga Per La Champions Quindi Secondo Me Questo Vediamo Il Napoli Vuole Capire Se Arriverà Un Uovo DS Vuole Capire Se Sarà Calzone Il Prossimo Allenatore O Sarà Qualcun Altro Vuole Capire Se Si Raggiungerà La Champions Ecco Quindi Secondo Me Vediamo A Maggio Significa Questo E Sono Uscito Dei Novi Video Detto Questo Noi Ci Vediamo Alla Prossima E Sempre Comunque Forza Napoli